ciao proseguiamo il nostro viaggio di scoperta di green pencil e oggi vediamo un po di uscire dal solito bianco e nero e proviamo a capire come funzionano i materiali allora partiamo sempre con la modalità 2d animation e io poi tra l'altro finisco sempre per rimuovere questa parte per riuscire ad avere più spazio allora abbiamo affrontato un po di strumenti adesso è ora di spostarsi un pochettino in questa in questa sezione in questo selettore allora utilizziamo lo strumento per esempio penna uno strumento che abbia l'intensità al massimo facciamo un segno e il segno è di colore nero se facciamo caso a questa casella discesa abbiamo a disposizione anche questi altri materiali red già pronti red ed ecco che il mio segno è rosso gray questo è speciale provate a fare un segno e vedrete che sarà automaticamente chiuso se mi fermo qui farà questa forma strana è fatto apposta diciamo per pensare a zone chiuse fate anche caso mentre disegnate che c'è un bordino grigio appena un po più scuro ho poi un quarto materiale già pronto che si chiama black dots notare come in un segno veloce i punti siano pochi in un segno più lento i punti siano molti lo strumento è sempre quello è ink pen se io avessi preso la matita si comportava in maniera simile ciascuno di questi materiali solo con l'intensità relativa ora anche per rimuovere tutto questo scopriamo un'altra scorciatoia che è la b se io premo b sulla tastiera posso trascinare un rettangolo con il quale cancellare quello che ho fatto cancella tutto quanto allora i materiali quindi questi sono già pronti tutti gli altri si trovano qui nella solita palette dei materiali di blender quindi questa è una delle cose più importanti perché è una delle più diverse rispetto ai normali programmi di disegno allora nei normali programmi di disegno che succede possiamo scegliere un colore qualsiasi e cominciare a dipingere invece in grease pencil dobbiamo avere un materiale quindi andiamo appunto a vedere cosa vogliamo fare se adesso per esempio prendiamo un allargo un pochino il pennello e magari voglio provare a disegnare degli alberi potrei pensare di fare un tronco e però è nero magari voglio dargli un colore marrone ok come faccio il mio materiale si chiama black ogni materiale del grease pencil è costituito da due elementi uno stroke e un fill stroke è il colore del segno fill è il riempimento come vedete questo materiale ha fill deselezionato e stroke selezionato facciamo una prova tiro via stroke scompare tutto aggiungo fill viene riempito riempito significa che per ognuno dei segni che traccio il punto di inizio e il punto di fine vengono collegati quindi adesso annullo l'ultimo segno che ho fatto ecco e in questo momento stroke ha un colore nero se io vengo qui color posso provare e cambiare colore e andare appunto per esempio a scegliere un marrone questo è un selettore colori abbastanza intuitivo posso scegliere un selettore rgb hsv oppure in esadecimale per la parte sottostante altrimenti uso questo e con questa barra scelgo l'intensità quindi il value questo rappresentato dalla v dal dal nero al bianco e poi o prima insomma qui invece posso scegliere sul muovendomi sulla circonferenza la tonalità e andando sempre più verso l'interno abbasso la saturazione potete notare le barrette che si muovono vado a prendere un marrone che possa andarmi bene e a si c'è un ultimo elemento che è questo alfa che è solo qui non si può scegliere dalla sopra se lo abbasso il colore diventa trasparente notate tra l'altro che nella trasparenza la trasparenza è segno per segno per cui un colore trasparente significa che vedo la sovrapposizione delle pennellate adesso lo porto a essere completamente opaco la trasparenza viene rappresentata dal in questa iconcina qui mi rappresenta il colore di qua e la trasparenza di là con quella scacchiera ora quindi ho un materiale per lo stroke di colore marrone se io avessi premuto fill avrei potuto scegliere un colore diverso per il riempimento quindi abbiamo queste due possibilità stroke e fill i materiali già presenti questi qua che avevamo visto da questo menu a discesa avevano i primi due stroke e anche l'ultimo in un modo un po particolare e quello invece che si chiamava gray se lo seleziono adesso e faccio degli elementi è grigio però vedete ha sia stroke che fill riempiti quindi per esempio potrei andare a selezionare un colore diverso per il fill e lo stroke adesso si nota è di un colore diverso è grigio e quindi potrei anche andare a selezionare un colore diverso per il bordo se voi volete che abbiano a parte che possiamo semplicemente togliere stroke e in questo modo non abbiamo il bordino se volete che sia lo stesso dovete riprodurre esattamente questi valori c'è sempre a disposizione il pesca colore e quindi per esempio potete cliccarlo e andare a toccare sulla tela e pescare il colore che avete già pescato che un colore qualsiasi che è già presente sulla tela come vedete funziona anche pescando qualsiasi colore dell'interfaccia come vedete ho pescato l'arancione di questi concini quindi il pesca colore è molto mi permette di scegliere qualsiasi cosa che abbia schermo in questo momento adesso che ho questo materiale posso andare a continuare a costruire tra l'altro è interessante come questo materiale che ha sia fill che stroke si sovrappongono i segni come vedete di diversi i diversi segni successivi si sovrappongono in un modo interessante che può dare luogo a particolari effetti grafici in particolare una cosa che a me piace è il fatto che la parte finale come vedete quando va a completare una chiusura che voi non avete fatto come qui non c'è il il segno di stroke per cui quando io poi vado a sovrapporre degli elementi in questo modo posso decidere di dare quest'idea di sovrapposizione lasciando semplicemente dei buchini come vedete quindi è abbastanza facile cosa è la cosa strana che questo continua a chiamarsi grey cioè ho modificato e anche il black avete notato adesso è marrone in pratica questi materiali se io li cambio vado a cambiare questo materiale anche per sempre diciamo o esattamente come facevamo coi pennelli quando abbiamo cambiato le dimensioni la forza succedeva che queste impostazioni venivano ricordate quindi se adesso per esempio anche per il tronco posso allora facciamo pesco il colore marrone e magari posso sì scusate per il fill vado a pescare il colore marrone e lo scelgo leggermente più chiaro e un po più saturo e così ho questo particolare effetto carino sul tronco adesso vado a correggere alcuni di questi buchi facciamo così delle linee lunghe ecco e lascio che sia lui a chiudere la parte finale se faccio così appunto per esempio ecco vediamo così come vedete lasciandolo chiudere la parte finale lasciando la parte finale aperta posso ottenere degli effetti interessanti e tra l'altro se vado a disegnare adesso vedete che si sovrappone perché questo segno è venuto dopo quindi fate attenzione ogni nuovo segno che fate si sovrappone i precedenti e allora vediamo un po di impostazioni come dicevo abbiamo modificato il colore questo non ha più senso che si chiama i black qua posso cambiare il nome e lo chiamo tronco cerchiamo di non chiamarli per colore ma appunto per materiale quindi questo saranno le foglie vi consiglio appunto di scusate di ragionarci come a un materiale non come a un colore in questo modo ha senso perché in qualsiasi momento anche a disegno completato io posso tornare sul tronco e decidere che voglio cambiare il colore e come vedete verrà cambiato in tutto il documento che succede quindi se voglio un colore nuovo adesso voglio fare dell'erba non posso scegliere foglie e fare un verde nuovo perché finirai per modificare anche quello delle foglie devo creare un nuovo materiale semplicemente i materiali nuovi potete crearli dovete prima fargli uno spazio questa è la lista dei materiali serve prima di tutto creargli uno spazio vedete ho premuto più e qua ho posto per un nuovo materiale ora se premo da questo tasto vado a scegliere uno tra quelli esistenti per cui potrei diciamo creare un nuovo materiale uguale a uno esistente in genere non è quello che vogliamo questo 2 significa questo significa che questo materiale tronco è usato due volte lasciando perdere un attimo black dog possiamo proprio toglierlo perché tanto non lo stiamo usando e anche red adesso tronco è usato due volte lo rimuovo rifaccio più qui invece se vogliamo farne uno nuovo dobbiamo premere il tasto new come vedete si crea un materiale vuoto dal nome material e di base a uno stroke nero pieno quindi se voglio cambiarlo appunto non devo fare altro che venire qui scegliere un verde tipo diverso magari posso cambiargli nome così come erba aumento la dimensione del pennello magari invece di ink pen vado a prendere questo che è quello piatto l'aumento di nuovo effettivamente perché ecco e con questo qui che ha un effetto più piatto posso fare dei fili d'erba più credibili adesso alcuni saranno un po troppo sottili noto qua ovviamente il problema è l'inclinazione del pennello non riesco a farli grossi perché il pennello in questa direzione si comporta in questo modo andiamo subito a vedere questa impostazione è un impostazione che possiamo trovare qui allora o andiamo sotto advanced oppure come dicevo le stesse impostazioni sono disponibili anche in questa zona questo è un' impostazione di angolo che si trova qui angle 20 gradi 20 gradi quindi significa eccolo lì sono in questa direzione se io i 20 li trasformo in 0 sarà in verticale che ho lo spessore più sottile se invece lo metto a meno 20 sarà in questa direzione che ho lo spessore più sottile esattamente all'incontrario quindi se voglio disegnare lì lo metto un attimo meno 20 e disegno delle foglie e si comporta esattamente come le foglie dall'altro lato se adesso vengo di qua è di qua che saranno troppo sottili ok quindi se volete regolare in questo marker chisel l'angolo dovete semplicemente venire qui e scegliete l'angolo che preferite questo è il fattore cioè quanto è lontano da una forma tonda regolare quindi se lo metto a 0 è come se il valore di angle non ci fosse se lo metto circa a metà è più sottile da un lato che non dall'altro ma non così tanto come con un fattore altissimo come era prima 1 comunque adesso tornando ai materiali abbiamo il materiale dell'erba e aggiungo un paio di segnetti qui sotto per coprire questa parte e possiamo quindi notare che ho potuto avere un colore nuovo e posso anche appunto come abbiamo detto andare a modificare per esempio l'opacità qui e adesso ho anche un effetto che è quasi quello di diversi colori in realtà sto semplicemente giocando con l'opacità e purtroppo è un po tedioso doversi creare un materiale ogni volta in realtà ci può venire un po in aiuto a questo tasto eye dropper che è il come vedete prende un colore dalla finestra di windows e ne crea un materiale per cui voi quando lo cliccate poi cliccate su un colore esistente per esempio questo che è un misto tra il verde in trasparenza e il marrone e tac vi ritrovate un materiale già pronto con il colore che avete pescato e quindi magari questo potreste dargli un altro nome tipo erba 2 adesso prendo rimpicciolisco leggermente prendo di nuovo lo strumento draw e vado a fare qualche altro filo d'erba con questo colore che in questo momento tra l'altro ha un alfa di 1 e quindi è completamente opaco quindi ricordate che per poter cambiare colore è necessario creare un materiale questo può essere un po limitante nel momento in cui si vuole creare mille sfumature di colore può venirci in aiuto alcune delle possibilità offerte qua all'interno dei materiali per esempio se mi sposto adesso sul tronco come vedete abbiamo questa indicazione style allora style può essere solid oppure anche per esempio gradient gradient allora se io ho il posto solid significa colore pieno selezioniamo invece gradient allora posso fare un riempimento tra un primo colore e un secondo facciamo un secondo colore simile al primo con un alfa molto si a 1 e semplicemente anche qua lo schiarisco un po lo saturo un po e quindi è leggermente diverso forse no meglio se lo desaturo adesso ho creato ci sarà un gradiente tra questi due colori sono adesso per vederlo meglio facciamo così andiamo a scegliere un colore da tutt'altra parte dello spettro così proprio lo notiamo adesso lo vedo che è tutto blu perché è questo mix factor che decide in che punto mi trovo del mio gradiente quindi se mi ci metto a 0 5 significa che farà esattamente un gradiente tra questi due colori a metà ovviamente segno per segno se vado fino in fondo avrò solo il primo marrone quindi adesso torniamo qui a scegliere un colore marrone non verde ma marrone ecco come vedete giocando un pochettino con mix factor posso avere del colore più vario qui non è neanche tanto vario in questo momento come possiamo anche per fortuna cambiarlo direttamente qui e vedere immediatamente il colore che cambia se premo flip colors si inverte il gradiente e poi con queste altre impostazioni posso decidere di cambiare le dimensioni del gradiente e di nelle due nei due assi x e y e anche l'angolo nel senso che in questo momento se mettessi 90 il gradiente si muove in direzione perpendicolare rispetto a prima ora per capire meglio queste opzioni probabilmente la cosa migliore da fare è a parte che potete notare che c'è una piccola anteprima e che ecco la vedete meglio allargando la fascia preview il colore qui viene rappresentato come una piccola anteprima quindi vedete se io metto mix factor a 0 5 il gradiente è esattamente qui a metà più vado giù più il primo colore prende il sopravvento adesso lo rimetto a 0 5 flip colors l'inverte appunto l'angolo se lo mettessi a 90 il gradiente va da sinistra a destra in questo momento è strano il colore perché devo andare a trovare il giusto valore di location comunque giocate con questi valori fino a quando non ottenete esattamente quello che desiderate abbiamo visto appunto come creare un nuovo materiale direttamente da qua è anche possibile copiare un materiale esistente si può premere più per creare un nuovo slot premo seleziono un materiale che c'è già come abbiamo fatto all'inizio foglie se poi premo su questo numero 2 viene creata una copia del materiale e che quindi di base viene chiamata con un nome tipo foglie 001 va bene a me va bene e seleziono e adesso vado per esempio a variare leggermente questo colore e a variare leggermente quest'altro e posso andare a fare degli altri segni il materiale già selezionato f riduco un pochettino lo spessore e quindi queste foglie saranno leggermente diverse dalle precedenti adesso facciamo delle zone più ampie un attimo ecco può essere utile in una situazione del genere vi insegno subito a utilizzare questo tastino qua draw most strokes on back se lo premo i nuovi segni che farò non andranno a sovrapporsi a quelli che ci sono già ma andranno a finire dietro e quindi vedete per esempio posso andare a fare le foglie dietro all'albero senza aver paura di sovrappormi tutto quello che faccio adesso va a finire dietro ora riprendo di nuovo il materiale foglie e faccio altri elementi come vedete adesso sono dietro tolgo questo tastino e torno davanti ci sono altre opzioni per i materiali ovviamente allora per la linea non è possibile scegliere il gradiente è possibile scegliere texture e invece per il riempimento andiamo a fare un disegno qui a fianco e prendiamo subito per esempio allora facciamo un materiale nuovo chiacciamo new lasciamo pure questo nome material solo per fare un esperimento e proviamo uno di questi nuovi strumenti qua sotto che tanto sono abbastanza intuitivi li vedremo con calma ma prendo un rettangolo lo trascino e posso lo confermo con invio vedremo poi come funzionano le forme e adesso facciamo delle prove allora se lasciamo la linea come sta riempio fill abbiamo utilizzato gradient e abbiamo visto come funziona quindi fa un gradiente come abbiamo detto tra i due valori e metto 0,5 così lo vediamo bene insomma e mi regolo ora abbiamo a disposizione nel gradiente anche la possibilità di fare un gradiente radiale come vedete il gradiente radiale è un cerchio si può andare a regolarne la posizione all'interno della mia texture e la dimensione sui due assi ovviamente è un po' strano funziona all'inverso la scala rispetto a quello che ci si aspetta nel senso che più piccolo è il numero più lo ingrandisco e questo è il raggio e quindi vedete posso aumentarla se faccio flip colors se metto 0,5 0,5 il mio cerchio è esattamente nel mezzo e quindi allo stesso modo posso riuscire in questo modo a posizionare il cerchio all'interno di quello che mi serve quindi anche qua 0,5 per il raggio si riferisce alla dimensione dell'oggetto che sta venendo riempito oltre a gradient ho a disposizione checkerboard che è una scacchiera e anche qua posso scegliere due colori della scacchiera e posso cambiarne la posizione adesso uno non se ne accorge in questo momento allora scala è abbastanza facile intuire che la scala regola sui due lati le dimensioni dei rettangoli l'angolo e l'angolo di rotazione dimensione del box nel quale viene diviso in rettangoli e questo sposta sull'asse x e l'asse y gli scacchi l'altra opzione è texture texture ovviamente devo poter avere una texture proviamo subito premiamo F12 abbiamo fatto un rendering della nostra immagine facciamo image save as lo saliamo qui e lo chiamiamo render salva questa è un'immagine che ho salvato adesso se scelgo texture nel riempimento posso aprire la texture in questione per esempio appunto lei stessa e adesso come vedete l'immagine viene utilizzata come riempimento quindi è un'immagine bidimensionale la texture l'abbiamo selezionata e anche qui ho esattamente come per gli scacchi le stesse possibilità di essere scalata di essere spostata l'angolo quindi in questo caso dovrebbe essere 180 metto 1x1 0,5 0,5 adesso vedete è lì all'interno ovviamente essendo un quadrato e la mia immagine era un rettangolo adesso sono riuscito a più o meno a farla rientrare se scelgo clip l'immagine non viene ripetuta quindi si sposta ma rimane singola quindi se invece tolgo clip l'immagine viene ripetuta appena è finita ne ricomincia un'altra mix with color significa che potrei tenere sia l'immagine sia un secondo colore al quale viene mescolata l'immagine più questo numero è alto più il colore va a interagire con l'immagine questa è l'opacità generale dell'oggetto e quindi se avessi qualcosa dietro esattamente come alfa sotto solid va a rendere trasparente l'immagine quindi questo è una ulteriore possibilità che user stencil mask invece utilizza l'immagine come facciamo facciamo un rendering di un'immagine trasparente che val sempre la pena imparare comunque a fare anche quello vado su render questo anche questo lo vedremo con maggior calma comunque se voi cliccate qui su transparent adesso quando premo f12 per renderizzare lo sfondo non viene renderizzato e quindi se vado a salvare quest'immagine come png render trasparente adesso ho un'immagine trasparente salvata e quindi se torno nei miei materiali e come texture di nuovo premo apri e vado a selezionare quest'altra immagine adesso ho un'immagine trasparente riportiamolo un po' all'incirca in modo da poterla vedere avendo messo clip appunto la vedo una volta sola e adesso se premo use stencil mask in pratica vedete le aree dell'immagine che sono trasparenti saranno trasparenti nel mio riempimento mentre invece questo colore viene inserito nelle aree dell'immagine che non sono trasparenti per il resto il funzionamento è sempre quello quindi questo è un modo un ulteriore modo per poter fare un riempimento diciamo bucato come al solito qua l'anteprima cerca di darmi un'idea posso anche scegliere se vederla rappresentata su un quadrato su un cubo su un cerchio su una serie di segni posso come abbiamo visto cancellare un materiale per cancellare un materiale devo semplicemente rimuoverlo col meno e tutti gli oggetti che avevano quel materiale gliene verrà assegnato un altro posso anche decidere di nascondere un certo materiale quindi di non vederlo sulla scena e ovviamente appunto ricordatevi che se andate a cambiare il materiale di qualcosa che avete già disegnato questo cambierà al volo in quel momento adesso premo la B e rimuovo no per qualche motivo adesso non cancella vediamo un attimo ho lo strumento rettangolo mi sposto allo strumento penna premo B trascino e viene eliminato evidentemente non funziona quando si ha lo strumento rettangolo selezionato è stata una puntata un po' più lunga del solito ma abbiamo messo le basi per poter utilizzare i materiali alla prossima